Finalmente è iniziato il decentramento a Pescara, quindi il servizio anagrafe dello Stato Civile viene trasferito all'interno delle tre circoscrizioni. E ben venga questo fatto per agevolare il traffico, per far avvicinare al cittadino il proprio servizio di anagrafe. Però, secondo il mio parere, le cose vanno fatte per bene. Questa è l'anagrafe della circoscrizione Castellammare. Come vedete possiamo partire da questo androne d'ingresso che non è stato né riverniciato né riaggiustato. E' quindi pieno di infiltrazioni e di mura rovinate per passare a questo scivolo pericoloso dove venerdì sono cadute due signore perché non si vede, non c'è una delimitazione e serve un passamano urgentemente prima che si faccia seriamente male qualche d'uno. I lavori che sono stati effettuati alla circoscrizione lasciano uno zoccoletto di ingresso dove è facile inciampare. E poi proseguiamo nelle due sale che sono all'interno della nuova anagrafe che sono lasciate in questo stato. Sono stanze prive di illuminazione dove le infiltrazioni d'acqua e quindi muffa, come si può anche sentire, purtroppo voi non lo potete sentire, già si sente l'odore, il cattivo odore della muffa. In questo androne si sale per andare nella sede del quartiere Castellammare. Come vedete ci sono quattro rampe di scale quindi l'accesso ai disabili è completamente impossibile. Le plafoniere che illuminano le androne delle scale non sono neanche munite del coperchio. Salendo si arriva nella sala dell'assistente sociale che è percorsa dai cittadini che vanno a fare altri servizi dell'anagrafe quindi privacy è assolutamente non rispettata. Dopo la segnalazione fatta anche dai dipendenti comunali al CSA che è il sindacato autonomo dei dipendenti chiediamo all'amministrazione di intervenire e di verificare in realtà la salubrità degli ambienti e la fruibilità vera del servizio anagrafe presso la circoscrizione Castellammare. Grazie.